Un brutto risveglio per la Chiesa del Corpo di Cristo a Pagani. In nottata dei ladri hanno fatto irruzione all'interno degli uffici della parrocchia, mettendo a suo quadro i locali e portando via soltanto alcune centinaia di euro. Fortunatamente negli uffici non erano presenti particolari oggetti di valore. Resta l'amarezza per il danno che ladri hanno arrecato, facendo irruzione nei locali adiacenti alla Chiesa, come affermato dal parroco Don Flaviano Calenda. Hanno portato danni alla struttura, porte di svelte, vetri, rotti, questo è il più il danno. Sono venuti per i soldi, per trovare un po' di danara, perché tutto ciò che sta dentro, poi compiuto e altre cose, non è stato esportato niente. Il danno è alla struttura, non tanto a qualche cosa, erano diretti per i soldi. Ciò l'ha fatto pensare anche dei ladri, probabilmente ragazzi? Ma sì, penso di sì proprio. Hanno preso una scala, stanno facendo i lavori qui in via Striano, l'hanno messo da dietro, sono saliti su una casa, l'hanno rimesso giù dove sta il bagno delle cortile, sono scesi giù e tranquillamente hanno rotto i vetri e le porte degli uffici parrocchiali, dell'ufficio mio, eccetera, e hanno buttato tutto per aria. Arrivare a rubare anche in una chiesa lei cosa dice? Io dico che se a questi ladri, a questi fratelli ladri serve un po' di danaro, vengono chi che serve 50-60 euro, glieli diamo su qual è il problema. Ma portare un danno del genere, rompendo porte, finestre, vetri, è questo il danno, e soprattutto mettendo tutto sotto sopra, non è un bel risveglio.